Si avvicina la crisi politica in Israele dove il ministro degli esteri, il falco Avigdor Lieberman, ha annunciato la fine dell'alleanza con il Likud e la partito del premier Benjamin Netanyahu. Salva per il momento la coalizione al governo, Lieberman ha accusato il premier di essere troppo indeciso nei confronti di Hamas, contro cui sarebbe a favore di un massiccio intervento militare. Non è un segreto che le differenze tra me e il primo ministro negli ultimi tempi siano diventate sostanziali. e ci impediscano di continuare a lavorare insieme. Lieberman ha annunciato di voler creare una nuova lista politica separata dal Likud di Netanyahu, una quindicina ai deputati a farne parte, ma è certo che il ministro degli esteri proverà ad allargare il numero a prova del proprio peso politico. Lieberman, la cui popolarità è, secondo gli ultimi sondaggi, in caduta, spera dalla rottura con Netanyahu di recuperare sostegno e visibilità politica in vista di probabili nuove elezioni. Grazie.